In tanti hanno accolto l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Vinci in occasione dell'inizio delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, che vedono la Toscana in prima linea con oltre 50 eventi, tra mostre, convegni e spettacoli, in un vero e proprio museo diffuso sul territorio. Il capo dello Stato, accolto tra gli altri dal Presidente della Regione Toscana, è stato salutato con la discesa dei paracadutisti che si sono lanciati con il tricolore. Poi ha inaugurato la mostra Leonardo a Vinci, alle origini del genio, nel Museo Leonardiano e ha ricordato come l'opera di Leonardo sia oggi un invito a riflettere sulla dignità dell'uomo. Leonardo non è una figura senza tempo e senza luogo, era figlio del suo tempo ed è proprio questo che manifesta appieno la sua straordinaria capacità di ricercare, intuire, vedere, al di là dei limiti della conoscenza di quel tempo. Una giornata che tutti hanno definito di portata storica per Vinci, gli eventi per celebrare il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci in Toscana, sono stati pensati per affrontare la figura dell'artista, ingegnere, architetto e inventore come genio toscano, italiano ed europeo. Una dimensione messa in rilevo dal Capo dello Stato, che prima di ripartire ha visitato anche la casa natale di Leonardo ad Anchiano, accolto dalle bandiere sventolate dai bambini delle scuole primarie.